Dopo l'annuncio del nuovo coach e direttore tecnico Simone Marangio, che ha lasciato il settore giovanile della SPB per arrivare sulla panchina Nerofucsia, la Virtus Biella ha comunicato anche il rinnovo, per un'altra stagione, del capitano della B1 Cristina Mariottini. Il palleggio biellese è nata e cresciuta a Chiavazza, muovendo i primi passi nel settore giovanile Nerofucsia. Leader dello spogliatoio, rafforza il suo legame con il club preparandosi a vivere l'ottava stagione con la prima squadra. Queste le sue parole. La Virtus è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. Sono sempre in palestra, aiuto anche nel giovanile durante gli allenamenti delle piccole e se contiamo anche il tempo in cui mi alleno, in pratica non sono mai a casa. Ringrazio la società per la fiducia, il presidente e la UBE per continuare a puntare su di me. Qui ho trovato la mia dimensione e la mia zona di comfort. Sono molto contenta per questo rinnovo, peraltro arrivato velocemente, senza tante parole. Con il club abbiamo infatti parlato quasi esclusivamente del mio ruolo negli allenamenti delle giovanili. Alle spalle una stagione positiva, chiusa con il raggiungimento della salvezza, anche se con qualche rammarico. Sicuramente potevamo fare qualcosa di più, ripartiremo nei mesi prossimi, sicura di poterci migliorare ancora. Sono contenta dell'arrivo di Marangio nel ruolo di coach e ringrazio anche il suo predecessore Colombo per tutto quello che ci ha insegnato nei due anni insieme. Marangio in questi primi allenamenti di fine stagione sta dimostrando di saperci fare. Ha fame e vuol far bene come tutte noi. Le sensazioni, già in questo momento, sono molto positive.